un girone fa era il 20 di novembre va per la quinta giornata del girone di andata di questo campionato di seconda categoria girone di eravamo qui a girifalco a commentare questo euro girifalco busolavesi questo derby della città di girifalco che sta entusiasmando la cittadina appunto girifalcese adesso che oggi che 5 marzo siamo nella girone di ritorno siamo ancora qui a commentare questa partita buon pomeriggio a tutti i nostri amici telespettatori di sovranato 1 da fausto varano con l'assistenza tecnica di pepe tropea per appunto questa bella partita ci sta aiutando anche un pochettino oggi il tempo che è abbastanza diciamo accettabile un po di vento però c'è il sole non ci sono verificate e avverate le prospettive che c'erano da parte dei meteorologi che prevedevano oggi tempo brutto e pioggia non è così per fortuna e quindi abbiamo l'opportunità di seguire questa partita il campo in ottime condizioni è stato ben messo e ben sistemato da parte degli incaricati degli interessati e adesso quindi passiamo a leggervi le formazioni per quanto riguarda le squadre che scenderanno in campo vediamo i padroni di casa della busolavesi con in porta bilotta poi gli appello pallaria e domenico stranieri dell'ottantaquattro diciamo anche le date di nascita perché qui ci sono diversi casi di omonimia poi con il numero 5 De Filippo, Vitaliano, Vincenzo, Tavano, Bruno, Pilò, Marinaro e Vonella l'allenatore è Mister Riga però che oggi è squalificato e quindi non può essere in panchina appunto la panchina delle busolavesi, Ziparo, Marra, Progano, Rocco del 91, Petito, Maurizio, Vitaliano, Antonio, Sinopoli e Procopio. Per quanto riguarda l'Eurogiri Falco che è schierato alla sinistra dei vostri teleschermi con la classica maglia arancione mentre sulla destra ci sono i giocatori della busolavesi. Abbiamo in porta stranieri Roberto, poi Randò, Eiannao Chang, Giampa con il numero 4, Malanga, Ferraina con il numero 7, Burdino, Leonardo, Otto, Vonella, poi Conidi, Domenico, Shaban, Abumacar e Quirino, allenatore è Domenico, Giampa, allenatore e giocatore in questo caso con la panchina con Sparacino, Sgro, Burdino, Rocco, Chiarella, Signorello, stranieri Domenico del 96 e Conidi, Leonardo. È partita quindi in questo momento la partita diciamo benissimo subito che le due squadre si affrontano da posizioni di classifica abbastanza differenti l'Eurogiri Falco e secondo in classifica alle spalle della capolista diciamo quasi imprendibile Pianopoli che guida con 41 punti mentre l'Eurogiri Falco segue a 6 punti di stacco con 35 e ci sarà da fare prossimamente anche la partita clou di questo campionato questa volta a Pianopoli ricorderete che abbiamo seguito anche la partita tra Eurogiri Falco e Pianopoli nel girone di andata partita che era finita poi sullo 0 a 0. Dicevamo mentre la Busolavis si trova in terz'ultima posizione di classifica con 15 punti deve cercare di fare punti perché altrimenti rischia di essere risucchiata tra la penultima e la terz'ultima posizione fermo restando che ormai l'ultima quella che dà la retrocessione diretta è stata quasi matematicamente assegnata purtroppo alla Nuova Valle che è addirittura è a meno 1 in classifica e quindi con scarsissime possibilità di poter risalire appunto nella graduatoria. questa Busolavis che deve stare attento perché attualmente farebbe per come sta la classifica farebbe il play out in trasferta a Caraffa e sapete bene come è la regola dei play out che la squadra meglio classificata riceve in casa quella che è peggio e poi alla fine dei normali regolamentari minuti previsti dal regolamento poi viene a salvarsi la squadra che appunto è meglio classificata quindi la Busolavis deve stare attenta attenzione in questo momento alla ripartenza dell'Euro Giri Falco che ha cercato di portarsi in avanti con il solito Quirino e alla fine ha perso il contatto con il pallone ed è stato fermato e adesso parte in attacco la squadra padrone di casa anche se ricordiamo lo padrone di casa per modo di dire diciamo è un derby e come è successo all'andata come è successo per il Pianopoli come spesso succede qui a Giri Falco abbiamo una tribuna cremitissima non ci stancheremo mai di dire questo speriamo che chi ci ascolta segua questo nostro appello Giri Falco avrebbe certamente bisogno di una compagine che possa militare in categorie superiori e si potrebbe davvero cercare di fare una buonissima ottima società perché davvero il pubblico che ogni volta vediamo qui sugli spalti della della città di Giri Falco davvero non lo vediamo in campionato direttamente superiori per non parlare addirittura tra promozione ed eccellenza allora vediamo un pochettino alla partita vediamo il numero 9 pilò con la palla tra i piedi che da stranieri Domenico Domenico cerca di servire in avanti fermato da Ferraina e parte ancora Quirino nella fase di attacco viene fermato dal numero 5 e capitano De Filippo resta a terra per un attimo Quirino però nulla di grave per fortuna sicuramente si rialzerà il giocatore attaccante della squadra che oggi gioca in campo avverso in trasferta come suol dirsi in questi casi e vediamo se si riprenderà con il fallo laterale crediamo di sì va ad effettuarlo con la palla che arriva a Vonella Vonella ancora a servire il numero 6 se non vado errato dovrebbe essere Vitaliano Vincenzo quello che è andato sulla fascia di sinistra poi Randò supera un avversario cerca di mettere in avanti la palla finisce tra i piedi di Vonella Vonella se ne va sulla fascia di sinistra seguito da Malang poi arriva a chiudere tutto Randò e la rimessa con le mani sarà affidata al numero 3 pallaria della Busolavis il pallone per Marinaro Marinaro tenta il tiro dalla lunga distanza non inquadra lo specchio della porta la palla si perde alla destra dei pali difesi da Roberto Stranieri Stranieri che subito cerca di impostare la fase di attacco servendo al limite dell'aria il suo compagno ecco adesso Burdino che cerca di lanciare Quirino andavamo dicendo il suo compagno è capitano cioè non capitano è allenatore certamente Domenico Giampà che come tutti sapete ha voluto dare una mano giocatore dalle esperienze certamente in campionati superiori non ultimo quella della squadra giallorossa del Catanzaro che adesso ha voluto sposare questa causa della propria cittadina e venire qui a fare questo campionato di seconda categoria una volta che ha potuto davvero ricalcare i campi di calcio palla finisce in fallo laterale non riesce a controllarla il numero 7 Leonardo Burdino sul servizio di Randò e il pallone sempre affidato alle mani di pallaria dalla fascia di sinistra lungo il lancio controlla Giampà appunto l'uscita di Stranieri riceve dallo stesso portiere partono ovviamente sempre dai suoi piedi i lanci e le iniziative della squadra dell'Euro Giri Falco che cerca di partire con palla al piede sfruttando appunto la potenzialità la possibilità del fraseggio che hanno tutti i giocatori di Giampà anche se in questo caso ci piace anche ricordare di quello che è in panchina Michele Cristoforo che è sempre stata l'anima di questa squadra colui che davvero ha dato tutto e che a lui si devono certamente i meriti della rinascita del calcio qui a Giri Falco attenzione adesso è Shaban Shaban al cambio con Quirino che batte al volo la palla finisce alta sopra la traversa di Bilotta che si appresta al rinvio dicevamo quindi del ritorno del calcio qui a Giri Falco dopo che c'è stato un periodo di crisi si era chiuso quando c'era stata la prima categoria poi la retrocessione quindi non c'è stata la possibilità poi si è ripartite dalla terza in due anni la squadra di Michele Cristoforo è riuscita a ritornare almeno in seconda categoria e adesso con Giampà cerca di portare la lotta contro questo pianopoli imprendibile fino a questo punto ma che ricordiamolo ci sono le opportunità di essere promossi anche attraverso la lotteria come si dice dei playoff con la possibilità di poter inserirsi attenzione Malang è il numero 10 addirittura l'autopalo ma poi c'è il gol il gol segnato il gol di Shaban che è stato lestissimo a mettersi alle spalle del difensore della Busolavis e quindi all'ottavo minuto del primo tempo diciamo un gol un po' strano la palla aveva attraversato forse la linea di porta il direttore di gara ha segnalato subito la ripessa dal centro del campo c'era stato addirittura un tentativo da parte di un difensore della Busolavis che ha rischiato con un autopalo di ribadire in porta però a quanto pare il pallone era già oltre la linea bianca della linea di porta di bilotta per cui l'Euro Giri Falco fa subito suo il vantaggio con il numero 10 Shaban che d'altra parte bisogna dirlo obiettivamente è stato molto lesto molto furbo molto veloce nel cercare di andare alle spalle del difensore della Busolavis che si è fatto in questo caso ingenuamente secondo me superare e non è riuscito a controbattere e a rinviare qui bastava a un certo punto avere un pochettino di difreddezza battere forte e mandare la palla dove certamente non si poteva assolutamente arrivare non è stato così ha cercato di controllarla e invece a quel punto Shaban lo ha battuto in velocità e l'ha messo la palla in porta adesso c'è un attimo Domenico Conidi che ha subito un colpo probabilmente alla Tempie ecco si tocca la testa mettono giustamente subito la palla fuori quando si tratta di questi casi in questi casi di colpi alla testa bisogna immediatamente interrompere il gioco perché c'è sempre il rischio di un eventuale contraccolpo comunque Domenico Conidi deve uscire in questo momento va a farsi curare forse per fortuna non è nulla di grave non voleva nemmeno farlo però il regolamento dice che quando si ferma il gioco e quando si riparte bisogna per forza a questo punto andare fuori e poi avere il permesso da parte dell'arbitro di poter rientrare restituiscono con Fairplay i giocatori dell'Eurogiri Falco il pallone ai giocatori della Busolavis adesso si riparte con il numero 11 Vonella cerca di andare in avanti poi è fermato Marinaro ancora Bruno Bruno per Marinaro che disturba il numero 3 EIA tre sono gli stranieri dell'Eurogiri Falco in questa partita il numero 3 EIA, il numero 5 Malang e appunto il numero 10 Shaban l'autore del vantaggio della squadra ospite dell'Eurogiri Falco quindi ricordiamo al ottavo del primo tempo subito in vantaggio la squadra ospite per 1-0 adesso esce Roberto Stranieri ad impostazione del pallone a lanciare subito Domenico Conivi anche qui in questo caso deve stare attento pallaria perché in velocità i giocatori dell'Eurogiri Falco non ci stanno a pensare su due volte aggrediscono la palla, aggrediscono gli spazi vanno alle spalle proprio del difensore della squadra della Busolavis e anche in questo caso Domenico Conivi per poco non riusciva ad impostarsi del pallone e a presentarsi tutto solo davanti alla porta difesa da Bilotta EIA in fallo laterale con un colpo di testa gestisce tutti i movimenti anche dal campo i movimenti dei propri compagni le posizioni Domenico Giampà che gioca ovviamente da difensore centrale di sinistra ma è un po' il controllore di tutti i movimenti che ci sono in campo attenzione come mette fallo Malanga Malanga Salium giocatore numero 5 dell'Eurogiri Falco c'è il calcio di punizione a favore della squadra che è indistinta e gioca in casa vediamo chi si incarica della battuta dovrebbe essere... no, si allontana De Filippo poi lascia a Vitaliano Vitaliano Vincenzo batte dalla lunga distanza è un servizio proprio per un suo compagno ma poi c'è posizione irregolare l'arbitro... anzi, vi dovevamo ancora dire il direttore di gare chiedo scusa abbiamo probabilmente tralasciato di dire il direttore di gare il signor Corticelli di Catanzaro attenzione ancora una volta si sta ripetendo questa giochetto qui a Quirino sbaglia e mette dall'altra parte poi Domenico Corretti stanno facendo un po' a rimpiattino da una parte o dall'altra parabilotta il tiro di Quirino ma stanno un po' facendo non dico quello che vogliono non vorrei dirlo anzi perlomeno però devo dirlo perché i giocatori dell'Euro Giri Falco nel momento in cui si lanciano in attacco superano assolutamente in velocità proprio i difensori della Bussolavis e già è la terza volta in una hanno segnato in altre due e hanno rischiato di ancora una volta di andare in porta perché i difensori della Bussolavis dovrebbero andare non tanto per il sottile dovrebbero cercare assolutamente di spazzare via questo pallone perché quando ci si trova nei confronti di giocatori che certamente hanno una velocità doppia rispetto alla propria dovrebbero assolutamente cercare di spazzare via e non stare a cinchischiare con il pallone tra i piedi con il rischio poi di farselo togliere e di mettere in imbarazzo proprio il proprio portiere ecco Malang che rinvia anzi era Ia controllato e aiutato da Giampà poi lascia scorrere il pallone in fallo laterale Ferraina vediamo un'occhiata al nostro cronometro siamo arrivati nel quindicesimo in corso del primo tempo ovviamente già l'Eurogirifalco è in vantaggio per 1-0 con il gol un po' diciamo trovato anche se è stato bravo allora ripetisco ancora l'ennesima volta e le numero 10 attenzione Quirino ancora Quirino sulla faccia di destra per Domenico Conidi che tocca di giustezza ed è bravissimo Bilotta a rimanere quell'attimo in piedi a buttarsi solo all'ultimo momento quando il pallone proprio rischiava di passargli sotto la pancia e a fermarlo con il braccio davvero una bella parata quella del portiere della Busolave Sibilotta e anche perché il tiro di Quirino era stato molto bello era stato addirittura di controtempo non demorde comunque la squadra di casa anche se si scopre molto sta lasciando questi spazi a questi tre giocatori davvero importanti ricordiamo che in panchina per l'Eurogirifalco c'è un certo con Idi Leonardo che anche qui stiamo parlando di un giocatore che sicuramente può far benissimo il titolare ma tant'è quando si dice una rosa ampia bisogna fare delle scelte giustamente bisogna stabilire dei criteri e poi nel corso di un campionato certamente c'è la possibilità di fare e dare spazio a tutti quanti lo abbiamo visto con Idi Leonardo insieme con il fratello Domenico nel girone di andata davvero hanno fatto e hanno tirato la carretta per molte partite pallaria pallaria a lancio dove non c'è nessuno Eia per Domenico Giampà che guarda il proprio compagno il numero 6 Ferraina che sulla fascia di sinistra si lancia ma il pallone viene controllato dai giocatori della difesa della Bussolaves ancora Eia il numero 3 di colore dell'Eurogirifalco ancora Domenico Giampà che apre ancora per Eia ancora sulla fascia di destra per Randò Randò supera il giocatore numero 9 Pilò che lo andava a disturbare poi la palla finisce tra i piedi di Roberto Stranieri ancora Domenico Giampà apre sempre per Randò ecco vedete il gioco ragionato dell'Eurogirifalco che davvero non vuole lanciare palloni alla rinfusa se non quando devono partire al controattacco il trio scusate gioco di parole d'attacco appunto che riesce a far male alla difesa della Bussolaves Burdino Leonardo Burdino la palla poi finisce in falo laterale con la rimessa che sarà affidata a Randò si fa sentire Domenico Giampà il suo compagno che non era stato molto attento probabilmente a riprendere questo pallone Malang va piede giù unito giusto il fischio da parte del signor Corticelli di Catanzaro che vede questo fallo da parte del numero 5 dell'Eurogirifalco nei confronti del capitano della Bussolaves De Filippo ancora Vincenzo Vincenzo Vittaliano alla battuta come è successo anche nella partita di andata e come credo succeda sempre nelle partite della Bussolaves è quello che gioca tutti i calci di punizione mentre dal proprio canto no non c'è non c'è non c'è giusto la decisione direttore di gara non c'è volontarietà nel mandare il pallone all'indietro verso il portiere stavamo dicendo come mentre De Filippo è quello che probabilmente quello che si mette nelle posizioni di poter raccogliere i suggerimenti proprio del calci di punizione del compagno di squadra Marinaro Marinaro al rilancio cercava di aprire per il proprio compagno Vonella sulla fascia di sinistra viene attaccato Domenico Gigamani che è molto bravo giustamente a liberarsi del pallone a servire Vitaliano Vincenzo ancora Giampà lancia questa apertura in avanti poi Pallaria anticipa Chaban che spinge alle spalle il numero 3 in maglia gialla azzurra e quindi calcio di punizione sempre Vitaliano sempre in avanti in questo momento la Bussolavisi che non riesce ad arrivare al tiro pulito in area di rigore deve affidarsi a questi tiri da lontano come era poco fa successo con il tiro del suo giocatore adesso ancora una volta Marinaro prende il pallone per Vonella Vonella sulla faccia sinistra fermato da Randò deve rinviare con i piedi questa volta stranieri perché questo sì era un passaggio all'indietro da parte del giocatore appunto dell'Euro Giri Falco e in questi casi non si poteva assolutamente intervenire con le mani salvo poi concedere un calcio di punizione agli avversari pallaria sempre con le mani per indietro il numero 8 Bruno che tira anche qui vedete dalla lontana è probabilmente uno schermo questo della Bussolavis che sa di avere difficoltà certamente ad entrare in area di rigore a fare lo scambio che possa portare un uomo al tiro magari da posizione migliore e alla fine tentano questo tiro dalla lunga distanza la seconda volta adesso con Ivi e Bilotta fa buona guardia Domenico Conidi con il tiro da lontano ha cercato di sorprendere Bilotta che però era pronto lì dove sarebbe arrivata la palla De Filippo al rilancio ancora una volta non riescono c'è un po' di batte e ribatte adesso vediamo Burdino chiedo scusa intanto stavo osservando c'è un'ammunizione al numero 5 Malang per fallo probabilmente già era il terzo o quarto fallo che aveva commesso con il piede alto il numero 5 dell'Euro Giri Falco il signor Corticelli a scanso dei quibici ha voluto ribadire che è meglio finirla con questo tipo di intervento ed è intervenuto sventolando in faccia al giocatore dell'Euro Giri Falco il cartellino giallo Vitaliano Marinaro ancora Vitaliano lancio in avanti a cercare il proprio compagno il numero 2 Iapello Iapello che lo ricordiamo nella partita di andata fece un ottimo primo tempo addirittura aveva allora ricordiamo bene lamentato una mancata concessione di un calcio di rigore poi si era fatto male nel secondo tempo è dovuto uscire e quindi non ha potuto più dare il suo apporto alla sua squadra che ricordiamo il risultato della gara di andata fu di un secco 3 a 0 a favore dell'Euro Giri Falco appunto per la squadra che in quell'occasione giocava in casa chiede ancora il pallone tra i piedi Mimmo Giampà adesso adesso non c'è il controllo da parte di Randò e c'è ancora un fallo questa volta esce Banna a commettere fallo nei confronti di Vonella lo redarguisce il signor Corticelli non prende giustamente alcun provvedimento è un fallo di gioco non c'era cattiveria nell'intervento del numero 10 dell'Euro Giri Falco Burdino Malang e secondo me adesso Malang riesce di essere condizionato dal cartellino giallo perché è nel suo tipo di gioco che arriva certe volte attenzione Giampà va a liberare attenzione il trio d'attacco è in fuori gioco è in fuori gioco è giusto giusto ha visto bene anche se non era posizionato ultimamente il direttore di gara perché veniva da una velocissima ripartenza però ha visto bene la posizione di Conidi e quindi ha fischiato il fuori gioco da parte del giocatore della Euro Giri Falco ancora un tiro da lontano questa volta è Domenico Stranieri a tentare questo questo tiro con la palla che si perde al lato dalla porta difesa da Roberto Stranieri Marinaro Marinaro con il pallone esce fuori dall'aria ancora torna in aria questa volta tira e il tiro a giro non ha la forza giusta per poter impensierire Roberto Stranieri Domenico Conidi mette giù cerca di liberarsi addirittura fa delle veroniche che gli consentono di dare a Quirino poi ancora ricevere il pallone e Burdino Leonardo che si porta sulla fascia di destra mette al centro vediamo per il fallo dice il direttore di gara da parte del giocatore dell'Euro Giri Falco Quirino aveva lamentato una spinta in aria poi nel prosieguo dell'azione era stato Domenico Conidi ad alzare la gamba e ad indurre il direttore di gara a fischiare il calcio di punizione a favore della Busolavis eccolo Domenico Conidi ancora per Chaban in fuorigioco ho qualche dubbio questa volta sulla posizione irregolare del numero 10 però direttamente il direttore di gara era posizionato sicuramente meglio di noi che vediamo dalla tribuna vediamo in lontananza e lui era lì posizionato non dico quasi sulla linea del fuorigioco era abbastanza più vicino rispetto alla nostra postazione e quindi anche se di poco probabilmente il fuorigioco c'era lo ha determinato il signor Corticelli Giampà per il numero 8 Vonella anche in questo caso abbiamo omonimia tra il numero 8 Vonella del Eurogiri Falque e sempre il Vonella numero 11 della Busolavis cercheremo di identificarli attraverso il nome di battesimo per evitare di confusione con i nostri telespettatori e Ia all'indietro per Stranieri che rilancia lungo Quirino per Domenico Conidi ancora il lancio per cercava il lancio per Quirino ma poi alla fine si ferma Conidi dà il pallone in avanti per l'entrata e l'inserimento di Ferraina non raggiunge il pallone numero 6 dell'Eurogiri Falco C'è fallo c'è l'ammunizione anche per dovrebbe essere il numero 8 Vonella dell'Eurogiri Falco Abbiamo fatto una piccola indagine questo è Valerio Vonella quello dell'Eurogiri Falco che ha fermato irregolarmente il giocatore della Busolavis e ha subito il provvedimento dell'ammunizione sempre Vincenzo Vitaliano alla battuta del calcio di punizione e presumiamo l'inserimento di De Filippo perché anzi no tenta direttamente Vitaliano il tiro in porta però alla palla colpita malissimo dal basso verso l'alto si perde proprio veramente altissima sopra la traversa di Stranieri Burdino Leonardo Randò in avanti per Domenico Conidi ancora Burdino c'è l'inserimento sempre del numero 7 sulla fascia di destra viene fermato in fallo laterale tranquillizza il proprio giocatore Domenico Giampà abbiamo assistito al dialogo tra i due giocatori non era fallo ripeteva Giampà alla sua compagna però diceva adesso stai attento perché essendo ammonito avendo due giocatori ammoniti due giocatori di centrocampo il numero 5 e il numero 8 l'Euro Giri Falco rischia davvero di dover stare attento proprio perché è un secondo cartellino giallo come tutti sapete potrebbe portare al provvedimento dell'espulsione fa assolutamente l'allenatore in campo Giampà richiamando tutti quanti facendo in maniera tale che la sua squadra lo segua addirittura in tutti i movimenti vediamo ancora Vonella questo del Busolavis Marinaro ancora per Vonella e bravo questa volta Malang ad anticiparlo prima che il giocatore numero 11 del Busolavis riesca ad impossessarsi del pallone a portarsi in aree di rigore e lì ci sarebbe stato anche un rischio doppio per il numero 5 dell'Euro Giri Falco Davano per la Busolavis poi Pallaria commette fallo invece Bruno anzi chiedo scusa io ho sbagliato poco fa dicevo sì no ho detto Bruno ma il giocatore chiaramente che aveva commesso il fallo era il numero 8 dell'Euro Giri Falco Vonella Valerio l'avevo segnato giustamente quindi è lui l'ha monito attenzione ancora Shaban che non guadagna il calcio d'angolo ripeto l'8 dell'Euro Giri Falco che è stato ammonito insieme con il numero 5 due centrocampisti Malang e Valerio Vuonella che sono finiti sul taccuino del direttore di car il signor Corticelli di Catanzaro Domenico Conidi all'indietro c'è Burdino sulla fascia di destra eccolo che mette al centro bravo si coordina bene Domenico Conidi è più per l'estetica ovviamente per la possibilità di fare gol questo tiro da parte del numero 9 dell'Euro Giri Falco però è davvero una bella azione quella da parte dell'attaccante dell'Euro Giri Falco adesso commette fallo Querino agganciando il piede di appoggio del difensore della Busolavis 31 i minuti nel primo tempo 1 a 0 fuori casa dobbiamo dirlo per l'Euro Giri Falco nel derby di ritorno tra la Busolavis e la squadra dell'Euro Giri Falco per questo derby che già all'andata era finito è fatto proprio da parte della squadra dell'attuale allenatore Domenico Giampà all'andata era di Michele Cristoforo che ricordiamolo è sempre in panchina come tecnico in questo caso della squadra seconda in classifica in questo girone di seconda categoria stavamo dicendo prima dell'Euro Giri Falco che dopo un periodo una sosta di un paio d'anni se non vado errato adesso non ricordo con precisione quanti sono stati era ripartita poi dalla terza in due anni era riuscito ad ottenere due promozioni tra terza quindi in seconda e dalla seconda alla prima poi lo scorso anno ha avuto la retrocessione in seconda categoria e adesso ha ricostruito una squadra nel tentativo subito immediato di poter rientrare nella prima categoria appunto ancora Domenico Giampà che cerca di dettare i passaggi dettare i movimenti a tutti i suoi compagni riuscire a far gioco con intelligenza senza fretta facendo in maniera tale che la squadra possa muoversi coprendo tutti gli spazi che sono copribili nel campo e quindi cercare di fare la possibilità di ottenere delle accele d'attacco ecco Burdino con le mani sempre la palla in fallo laterale stavolta Shaban non è riuscito a contrarla ancora Burdino con le mani vediamo il lancio ancora per Shaban che restituisce a Burdino vediamo se riesce a mettere il numero 7 si libera di Bonella poi non ce la fa a metterlo perché le rinvio da parte della difesa della Bussolavis Malian va dall'altra parte dove c'è Giampà Giampà a lanciare il numero 6 questa volta addirittura e poi il numero 3 Quirino era un po' lontano dalla posizione di attacco adesso rientra ma la palla finisce poi tra i piedi dei giocatori della Bussolavis che ripassano con Marinaro Marinaro il rilancio dove non c'è nessuno troppo lontano troppo distante il numero 2 Iapello per poter arrivare ad ottenere qualcosa di buono ancora Burdino per Domenico Conidi che cerca di liberarsi si porta il pallone sullo sinistro batte ed è Bilotta questa volta che riesce a coprire lo specchio della porta e a mandare in calcio d'angolo ma davvero avete visto la bravura la capacità la velocità da parte di questo numero 9 dell'Euro Giri Falco che è presa la palla quasi al limite dell'aria con una doppia finta si è prostato sul centro dell'aria diciamo al limite dell'aria con il sinistro ha battuto verso la porta di Bilotta che dal suo canto è stato bravo attenzione c'è il gol e mi pare che se non vado errato c'è stato un autorete credo che si tratti di autorete anche se tutti vanno a complimentarsi con il giocatore dell'Euro Giri Falco dovrebbe trattarsi di Valerio Vonella il numero 8 si è lui a me è sembrato più un autorete è stato lui che forse alla fine ha toccato per il momento assegniamo al 36esimo il gol al numero 8 poi dalle immagini vedremo se è stato proprio lui oppure è stato un autorete da parte di un giocatore della Busolavis quindi 2 a 0 dopo 35 minuti 36 minuti in questo momento e quindi e quindi stavo dicendo un Euro Giri Falco che mette in cascina questo doppio vantaggio nel primo tempo e guarda con attenzione con fiducia e chiaramente come si dice nel calcio mai nulla è detto però già giocare con due gol di vantaggio è importante e poi gestire il pallone come lo sanno fare in questo momento lo stanno dimostrando i giocatori dell'Euro Giri Falco Quirino all'indietro per Aie Eia Anzi chiedo scusa Eia Nucciang Fallo ripesso con le mani attenzione c'è il gol bellissimo di Vonella dovrebbe essere esattamente anzi no Marinaro Marinaro il numero 10 Marinaro che da lì quasi appena dentro l'aria ha battuto verso la porta di Stranieri Roberto che non si aspettava questo tiro 37esimo rimette in si rimette in partita la Busolavis con questo bellissimo gol di Marinaro quindi 2 a 1 stiamo assistendo davvero una bella partita con belle iniziative begli attacchi belle partite belle giocate belle parate anche perché Bilotto però aveva parato su Domenico e ancora una volta deve parare su Quirino quindi non si stanno attenzione c'è a terra un giocatore Bruno della Busolavis che era rimasto a terra non si era accorto nessuno d'altra parte non ce ne eravamo accorti nemmeno noi perché vedevamo l'azione che si sviluppava nell'area di rigore della Busolavis era rimasto a terra nello scontro precedente il numero 8 della Busolavis quindi stavamo dicendo stiamo assistendo davvero a una bella gara fino adesso con giocate da una parte e dall'altra l'Eurogirifalco si affida molto di più alle triangolazioni tra i suoi giocatori tra i suoi attaccanti particolarmente poi con la capacità che hanno Quirino Domenico Conidi e anzi lo stesso Shaban di superare l'avversario si portano in proiezione offensiva in maniera più facile di quelle della Busolavis che ricordiamolo fino adesso hanno tentato più che altro il tiro dalla lunga distanza anche in questo caso è stato un tiro da lontano non dalla lunghissima in questo caso appunto perché era quasi nel limite era all'interno della rete di rigore e Marinaro è stato molto bravo e Vonella il numero 11 dell'Euro fermato da Giampà che controlla che il pallone finisca fuori e poi va a raccogliere la palla per mandarla per darla alla propria portiera da il 5 al giocatore numero 11 avversario e affida alla rimessa al proprio portiere Roberto Stranieri Stranieri che in questo caso ci è sembrato disattento non si aspettava certamente questo tiro perché forse pensava che Marinaro volesse ancora giocare volesse rientrare per poi eventualmente accentrarsi e tirare dopo invece questo tiro proprio pallonbella altissima che è andata a diseccare proprio nel set alla sinistra di Stranieri non ha davvero potuto fare nulla lo stesso estremo difensore che aveva un passettino in avanti rispetto alla linea della porta fermato Ferraina adesso è Valerio Vonella a scambiare a parlare dall'altra parte per Rando Rando guarda la disposizione dei propri compagni poi serve Chaban Chaban cerca di fare la palombella nei confronti di Pallaria che però viene colpito in faccia attenzione è rimasto a terra il numero 3 della Busola se ne accorge Giampà correttamente mette la palla fuori per cercare di far prestare i soccorsi al giocatore Pallaria che è stato colpito sul volto dal tentativo di sombrero come si dice del numero 10 Malang Chaban della Eurogiri Falco si rialza per fortuna nulla di grave per Pallaria certamente è un derby certamente è una partita sentita ma sicuramente c'è tanta di quella fair play sono giocatori che si conoscono giocatori alcuni che hanno militato addirittura nell'altra squadra e certamente sicuramente è un rispetto che è reciproco non è di quei derby cattivi come certe volte avviene in alcuni posti è un derby che è un derby di calcio ecco consentitemi questa frase che deve rimanere nell'ambito del campo che deve rimanere nella legittima voglia di sopravvalersi ma con tanta correttezza tanta signorilità e con tanto aiuto nei confronti uno dell'altro anche delle due avversarie se qualcuno dei giocatori dovesse a quel punto farsi male adesso la Busolavisi che cerca di riproiettarsi in attacco con Pallaria che mette la palla verso Marinaro viene fermato poi Chaban poi Malanga alla fine vediamo Domenico Conini che sposta intelligentemente il numero sei Vitaliano Bordino viene fermato dall'attenta uscita di Bilotta ancora Vitaliano la palla toccata no non esce fuori Malanga io pensavo che stesse per uscire fuori così è stato bravo invece Randoa a tenerli in campo ma poi alla fine la stessa finisce in fallo laterale per la rimessa con le mani del solito Pallaria qui sulla fascia destra non hanno sviluppato le azioni sulla fascia destra i giocatori della Bussolavis Domenico Conini ancora una volta se ne va con la sua andatura caricollante la mette al centro per Chaban questa volta è bravo De Filippo ad anticipare il numero 10 della Eurogirifalco e ad evitare la segnatura del 3-1 a favore della squadra che in questo momento risulta ospite di questo derby della città di Girifalco Quirino alla battuta certo consentite di dire è un spettacolo questa tribuna piena sotto di noi mentre stavamo guardando la rimessa dal calcio d'angolo ci siamo affacciati ed è davvero qualcosa di eccezionale di entusiasmante vedere tutta questa gente per un derby di seconda categoria ma ripeto non è solo per il derby di seconda categoria qui a Girifalco non è la prima volta che capita di vedere il pubblico delle grandissime occasioni per una partita di calcio Burdino fermato da Malanga che poi viene a disturbarsi con Rando è bravo questo numero 5 della Eurogirifalco però è un po' come si dice tarantolato come vuol dirsi perché cerca di anticipare di stare sempre lui sulla palla addirittura anche anticipando e togliendo spazio ai propri compagni è un po' disordinato se ci consentite il termine e ovviamente se ce lo consente in questo caso l'allenatore Mimmo Giampà con l'amico Michele Cristofaro Stranieri alla ribattuta vediamo siamo sul finire siamo nel corso del 45esimo vedremo se il direttore di gare che per adesso devo dire la verità ha arbitrato molto bene questo primo tempo è stato molto attento ha avuto la capacità di evitare che si facessero anche perché ovviamente lo è stato aiutato tantissimo dai giocatori in campo e quindi un signor Corticelli che sta gestendo benissimo fino adesso la partita in posizione ideale è riuscito a trovare quei due fuorigioco che certamente erano difficili probabilmente da vedere ma la posizione probabilmente lo ha aiutato sicuramente Marinaro di tacco però non riesce a fermare la palla poi il numero due Iapello che Iapello stavo dicendo prima che la Bussolavis non sta sfruttando la fascia di destra perché avevo visto ripeto nella partita il mio riferimento è quello della partita di andata un Iapello che aveva fatto davvero bene sulla fascia di destra oggi la squadra non ha giocato molto su quella fascia tanto è vero che se non vado errato adesso Iapello addirittura si è messo attenzione attenzione che non si intendono Stranieri e Ferraina la palla aveva superato anche Domenico Giampà che è quasi quello che chiede scusa ai propri compagni e quindi finisce lì senza recupero quindi un primo tempo che vede in vantaggio l'Euro Giri Falco nel derby con la Bussolavis che è padrone di casa quindi un 1 a 2 1 a 2 nel primo tempo con i gol segnati all'ottavo da Shaban a Bumbakar il numero 10 dell'Euro Giri Falco raddoppiato per il gol da noi abbiamo segnato Valerio perché è stato quello che è stato inquadrato e che è stato complimentato dai propri compagni al 36esimo un minuto dopo Marinaro con un gran bel gol dal limite dell'aria a scavalcare la porta di difesa da Stranieri Roberto quindi finisce qui questo primo tempo noi ci apprestiamo vi salutiamo e vi diamo appuntamento appunto per la seconda parte di gara a tutti un buon risentirci con un superato 1 è cominciato il secondo tempo qui a Giri Falco nel derby tra la Bussola e l'Euro Giri Falco un primo tempo che è finito con il vantaggio della squadra ospite in questo caso l'Euro Giri Falco che conduce per 2 a 1 in virtù delle reti segnate all'ottavo dal numero 10 Shaban Abubakar che era bravissimo ad anticipare il difensore avversario poi ha messo la palla che il direttore di gara ha giudicato oltre la linea di porte per cui immediato il vantaggio della squadra dell'Euro Giri Falco alla 36esimo c'è stato il raddoppio anche qui c'è stato un tocco da parte del numero 8 dell'Euro Giri Falco Valerio Vonella detta di tutti quelli che sono qui sulla tribuna probabilmente un tocco di punta che ha messo il pallone alle spalle del portiere Bilotto per il 2 a 0 per la squadra di Mimmo Giampà un minuto dopo attenzione adesso c'è ancora l'Euro Giri Falco in attacco con Domenico con Ivi che è stato anticipato da Bilotto stavo dicendo un minuto dopo quindi 37esimo del primo tempo e accorce alla distanza la squadra di casa la Busolavis con Marinaro che è decentrato sulla fascia di sinistra appena dentro l'aria ha scavalcato con un pallonetto il portiere Roberto Stranieri che non si aspettava questa traiettoria e che è stato davvero in questo caso battuto in maniera secca con un bel gol obiettivamente bisogna dirlo da parte del numero 10 della Busolavis quindi 2 a 1 per la squadra che secondo calendario risulta in trasferta all'andata l'abbiamo già detto ripetute volte siamo stati ancora ospiti qui delle tribune dello stadio di Giri Falco e lì finì per 3 a 0 sempre con la squadra all'ora del solo Michele Cristoforo che batteva nel derby appunto la squadra avversaria oggi ufficialmente a fare l'allenatore dell'Euro Giri Falco è arrivato Mimmo Giambà Mimmo Giambà che peraltro è in campo con la maglia numero 4 e che sta davvero distribuendo consigli ordine e quant'altro ai propri compagni eccolo proprio adesso in questo momento che interviene di testa ad anticipare un avversario allora diamo una lettura alle formazioni perché mi pare che eccolo qui il numero 14 lo dicevo l'avevo visto c'era stata una sostituzione da parte del tecnico in questo caso riga che però è squalificato non può essere in panchina riga della Bustolavisi ha inserito il numero 14 all'inizio del secondo tempo dobbiamo vedere al posto di chi vedremo se quale numero manca non so se di solito qui sulla fascia di destra opera il numero 2 gli appello ma mi pare che è in campo fare un po' la conta dei numeri per stabilire chi c'è e chi manca stranieri alla ribattuta proprio anticipando questo numero 14 Rocco Proganò del 91 che è entrato in campo vediamo il numero 9 dovrebbe essere il numero 10 marinare quello che è a terra in questo momento quindi gli appello è qui ed è in campo De Filippo è in campo c'è anche Vitaliano che è il numero 6 dall'altra parte vediamo Valerio Vonella all'indietro per Rocco Stranieri disturbato dal ritorno di Proganò ecco l'altro numero 8 Bruno per Tavano Tavano in attacco poi ancora Tavano lascia scorrere la palla il Mimbo Giampà e quindi la palla finisce in fallo di fondo il rinvio di Stranieri la spinta di Stranieri Domenico l'altro quello della Busolavi stavolta quello dell'84 e nei confronti del giocatore dell'Eurogiri Falco Mimbo Giampà fa venire in avanti con Ivi per cercare di fare gli spazi in avanti sempre il numero 4 dell'Eurogiri Falco numero 4 allenatore giocatore Domenico Domenico Conidi se ne va anzi no è Quirino questa volta scambio incrocio di Domenico Conidi la palla finisce in fallo laterale fallo laterale con le mani e il numero 6 Ferraina ancora Ferraina a rimettere la palla al centro la palla poi si perde dall'altra parte c'è la rimessa con le mani a favore del Bussolavis Marinaro in avanti il numero 10 autore del gol che ha riaperto la gara ancora e questa volta il numero 2 Randò ad aprire la gamba a commettere il fallo a provocare il caccio di punizione e l'ammunizione per il numero 2 quindi terzo ammonito nelle fila dell'Eurogiri Falco dopo il numero 5 Malang e il numero 8 Vanella Valerio anche il numero 2 Randò finisce sullo taccuino del direttore di gara calcio di punizione come sempre affidato ai piedi del numero 6 Vincenzo Vitaliano vanno in avanti il primo è De Filippo come sempre avviene e parte subito rilancia il pallone la squadra dell'Eurogiri Falco con Quirino che non riesce a controllarla benissimo viene fermato dal numero 3 pallaria comunque se non vado errato adesso io ancora sto cercando un po' di fare i conti di questa sostituzione credo che manchi a questo punto il numero 11 Vanella nelle fila della Bussolavis e al suo posto è entrato il numero 14 Progano Marinaro è proprio il numero 11 Vanella che manca quindi possiamo segnare dal 46esimo è entrato il numero 14 ancora un gioco fermo questa volta per un calcio di punizione a favore della squadra di casa di trasferti chiedo scusa Giampà sul pallone vediamo come si sviluppa questa azione poi magari daremo a questo punto la lettura delle due formazioni in campo Giampà va a cercare la posizione c'è un'alternanza uno scambio tra i due giocatori dell'attacco dell'Eurogiri Falco però adesso c'è un 3 contro 3 addirittura poi lanciano lunghissimo Marinaro questa volta nel cercare Rocco Proganò che non può arrivare certamente per questo lancio lunghissimo allora vediamo le formazioni in campo Labusso Lavi Sischiera Bilotta Giapello Pallaria Stranieri Domenico De Filippo Vitaliano Vincenzo Tavano Bruno Pilò Marinaro e dal 46esimo del quindi dal primo del secondo tempo appunto Proganò Rocco L'Eurogiri Falco Schiera Stranieri Roberto Rantò e Gianpa Malang Salium Ferraina Burdino Leonardo Buonella Valerio Conivi Schabann e Quirino Ecco Gianpa apre sulla destra per Rantò Rantò studia la disposizione dei propri compagni poi serve in avanti il proprio compagno anzi anche qui anche nell'Eurogiri Falco ma non me ne ero accorto perché non abbiamo visto alzare la segnalazione dei numeri e forse sono entrati entrambi allora a questo punto all'inizio del secondo tempo c'è anche il numero 17 domenico stranieri del 96 nell'Eurogiri Falco e dovremmo vedere chi è uscito a questo punto dovrebbe trattarsi del numero dunque c'è il 3 c'è il 5 manca il 10 manca l'autore del primo gol Schabann quindi al posto di Schabann è entrato domenico stranieri del 96 a differenza del numero 4 domenico stranieri della della Bussolavis quindi due omonimie differenti soltanto per quanto riguarda la data di nascita e allora due le sostituzioni una per parte all'inizio del secondo tempo per questo derby della cittadina di Girifalco tra Bussolavis ed Eurogiri Falco nel corso dell'intervallo si è un po' parlato si è discusso di questa situazione delle due squadre se l'Eurogiri Falco mira alla promozione o diretta vedremo quello che ne dice e quello che ne pensa probabilmente anche il Pianopoli o attraverso i playoff mentre che perché l'Eurogiri Falco è secondo in classifica con sei punti di distacco dalla Pianopoli e ci sarà prossimamente la partita di ritorno proprio questa volta a Pianopoli dopo lo 0-0 della partita di andata qui a Girifalco invece la Bussolavis che è terciultima deve stare attenta perché è risucchiata nelle zone basse della classifica e quindi una zona basse della classifica che attualmente vede appunto la squadra di riga che è terciultima il Belmonte è penultima a 12 punti e poi ci sono Caraffa e Parenti rispettivamente a 17-20 punti e poi c'è un terzetto Isca Amaroni attenzione io mi stavo perdendo nella classifica Isca Amaroni e Campora a 22 punti che possono ancora essere risucchiati attenzione adesso ancora una volta l'Eurogirifalco ha fallito di poco il terzo gol e riparte la Bussolavis eccolo il numero 14 che è entrato nel secondo tempo poi la palla finisce fuori si ce l'ha rimessa con le mani ecco Eia per Valerio Vonella Randò per servire sulla destra il numero 7 Burdino ancora Randò apre per Eia da questa parte a servire Giampà dietro Giampà controlla guarda apre per Randò Randò tutto verso l'inserimento di Ferrai in anticipato anche Quirino da De Filippo e poi la palla finisce in fallo laterale dovrebbe essere un 3-4-3 adesso quello del Bussolavis per tentare di poter recuperare questo svantaggio con in attacco appunto questo numero 14 Proganò con il numero 10 Marinaro e con il numero no eccolo 14 e con il numero 9 l'altro attaccante che è Pilò ma in questo caso è proprio Proganò che non riesce a dare forza al suo colpo di testa bravo e ben posizionato stranieri a raccogliere questo chiamiamolo così purtroppo in questo caso per il giocatore della Bussolavis tiro di testa telefonato Quirino troppo lungo troppo in avanti esce ancora una volta Pilotta davvero un Pilotta che dobbiamo dire che fino adesso ha sicuramente tenuto in partita la propria squadra facendo due o tre interventi prodigiosi nei confronti degli attaccanti dell'Euro Giri Falco e quindi la partita ancora è tutta da giocare certamente non si può stare tranquilli con un risultato striminzito ecco Domenico Conidi che se ne va tutto da solo sulla fascia di sinistra è decentrato si porta al centro poi Quirino che tenta due volte il tiro funambolico alla fin fine Domenico Conidi ancora una volta mette giù quasi a sedere Pilotta però poi è Vitaliano che riesce a fermare l'attaccante avversario in fallo di fondo per la rimessa con il calcio d'angolo secondo me sono stati un po' troppo leziosi questa volta i due attaccanti dell'Euro Giri Falco bisogna essere concreti in queste fasi bisogna battere a rete seccamente hanno cercato due volte di liberarsi dell'avversario quando ci poteva essere ci poteva stare certamente il tiro diretto che poi magari sarebbe andato fuori sarebbe stato parato però basta tentare bisogna tentare in questi casi la battuta a rete adesso scambiano ancora una volta Quirino e Domenico Conidi palla verso il centro dove c'è Burdino Burdino all'indietro non riescono a controllare poi non si avvedono i giocatori della Bustolavisi che sono soli nella ripartenza nell'uscita e regalano una rimessa con le mani Giampa Quirino Domenico Conidi ancora Quirino fermato anticipato anzi controllato più che anticipato da De Filippo che fa finire la palla in fallo di fondo la rimessa di Vitaliano Malang al centro del campo per il numero 7 Burdino rinvia di testa la difesa della Bustolavis e Ferraina Quirino ancora Ferraina in centro mette la palla ancora dentro fermata da Vitaliano Giampa all'indietro poi Bonella per il colpo di testa di Rando Conidi Marinaro ancora una volta va a cercare di liberarsi di due giocatori poi ottiene un rinfallo favorevole Bruno ancora Tavano Tavano in apertura per stranieri Palli Giapello che viene fermato in calcio d'angolo angolo per la Bustolavis e c'è un'altra sostituzione vediamo chi esce dovrebbe essere il numero 9 esce il numero 9 della Bustolavis ed entra il numero 16 Antonio Antonio Vitaliano Palla fuori Riparte dalla propria area di rigore l'Euro Girifalco con la palla dei piedi di Burdino che non subisce fallo non viene segnalato dal direttore di gara c'era una spinta Corticelli dice che non c'è stato nulla poi il tiro appena dentro l'aria ben parato questa volta da stranieri attenzione Quirino tutto solo e c'è il pallonetto 3 a 1 davvero impreparata la difesa della Bustolavis che non può permettersi di lasciare solo tutto solo in area nella metà campo avversaria pur nella propria metà campo il giocatore numero 11 che è bastata una spizzicata da parte una mancata intervento da parte del difensore numero 2 Giapello in questo caso dell'Eurogiri Falco e Quirino mette di nuovo due gol di vantaggio nei confronti della della Bustolavis per quanto riguarda la le segnature quindi un 3 a 1 aveva appena appena tentato il recupero la Bustolavis con quel tiro ben parato da stranieri poi una leggerezza perché chiaramente non si può portare tre giocatori in avanti e poi lasciare scoperta la difesa e basta l'esperienza la capacità la bravura la velocità oltretutto di giocatori come Domenico Conivi e Quirino per fare male e quindi far sì che dargli certe occasioni significa essere castigati Valerio Bonella per un rinvio che poi diventa produttivo per il numero 17 stranieri l'altro Domenico ecco Conivi ben controllato Davitaliano Bruno lancia ancora in avanti per Giapello ecco che forse la la Bustolavis ha capito che deve giocare sulla fascia destra ogni tanto non lo ha fatto assolutamente per tutto il primo tempo non ha sfruttato le capacità di proiezione offensiva di Giapello che adesso è diventato quasi il terzo attaccante affiancando Marinaro e Proganò anche all'indietro c'è una situazione di tre contro tre come d'altra parte è per la parte dell'Eurogiri Falco sono speculari le due squadre in questa situazione De Filippo De Filippo rilancia per Giapello che non colpisce di testa Giampari in via poi sono in due i giocatori della Bustolavis che cerca di prendere il pallone Marinaro cerca di servire in avanti il numero quattro stranieri palla che finisce in fallo laterale Giapello per la rimessa con le mani Marinaro è stato probabilmente l'uomo di maggior movimento quello del giocatore della Bustolavis Marinaro che è stato anche bravo nel segnare il gol del 1-2 c'è un cambio anche sicuramente si andrà a cambiare no no cambiano il numero 5 Malang per il numero 15 Chiarella quindi esce anche un giocatore ammonito e quindi al posto del numero 5 Malang Salium entra il numero 15 Chiarella Giampa per un attimo aveva fallito poi viene servito dal numero 3 e Ia che adesso è passato a destra credo che abbia ha cambiato certamente qualcosa Giampa nella disposizione dei suoi giocatori adesso voglio verificare se è lui che si porta leggermente in fase di centrocampo lasciando dietro i tre Aglie a destra Randò centrale e Chiarella a sinistra oppure se lui farà il quarto della linea di difesa si si mette come schermo probabilmente davanti alla linea difensiva a tre dell'Eurogiri Falco adesso era anche Antonio Vitaliano il numero 16 della squadra della Busolavis c'è una rimessa con le mani l'arbitro fa fermare e ammonisce un giocatore della Busolavis probabilmente ha detto qualche cosa si tratta proprio del numero 16 giocatore numero 16 che è appena entrato quindi si è fatto ammonire ecco Proganò cerca di liberarsi Marinaro è al centro però vediamo se riesce a prendere il pallone no perché lo viene anticipato da Aie De Filippo subisce il fallo però l'arbitro lo ha chiamato qualche piccola piccolissima scintilla tra De Filippo e Quirino Quirino aveva tentato di chiedere scusa dando la mano al giocatore capitano della Busolavis che o non se ne è accorto era lontano mettiamola così ma non lo ha ricambiato e quindi Quirino la Filippina ha fatto un applauso ironico all'avversario attenzione Conivi Domenico Conivi sulla fascia di destra Quirino al centro ecco la palla per il numero 11 anticipato da Iapello che fa una buonissima diagonale difensiva mette la palla in calcio d'angolo Dalla bandierina il numero 11 Quirino va incontro anzi tentava di andare incontro il numero 17 poi la palla viene servita a Giampà che dà ancora a Quirino Quirino la mette però leggermente al centro e la palla toccata questa volta da Valerio Vanella non riesce ad arrivare in porta poi c'è il fallo proprio del giocatore numero 8 dell'Euro Giri Falco dovrebbe essere stavo dicendo del numero 16 della Bussolavisi eccolo anzi Marinaro che cerca di servire Iapello Iapello ancora al centro poi fermato da Giampà adesso toccano si toccano entrambi Iapello e Chiarella il fallo è del numero 2 della Bussolavis per l'inizio con il calcio di punizioni da parte del giocatore della Euro Giri Falco è uscito il numero 9 del dicevamo sì abbiamo segnato anche è uscito il numero 9 pilò per il numero 16 che è Antonio Vitaliano adesso c'è anche l'uscita del numero 4 per il numero 17 Sinopoli quindi tre le sostituzioni per quanto riguarda la Bussolavis due ancora quelle dell'Euro Giri Falco quindi ci avviamo a questa frase conclusiva della partita con la Euro Giri Falco che diciamo abbastanza tranquillamente in vantaggio 3 a 1 sulla Bussolavis una Bussolavis che nel secondo tempo al di là del tiro attenzione che stanno disattenti i giocatori della difesa del Bussolavis sembra che certe volte si estranino dal gioco e adesso ancora una volta è stato bravo Bilotta a prendere questo tiro di Quirino è vero che i giocatori dell'Euro Giri Falco sono lesti sono attenti sono veloci però non ci si può distrarre in questo modo in difesa cioè lasciare che la palla attraversi addirittura due o tre giocatori per poi finire tra i piedi di un giocatore avversario comunque Quirino ancora di testa poi Iapello Iapello con Valerio Vonella che lo ferma va a cercare di portare il pallone in avanti addirittura cerca il fallo Domenico Conidi se ne va sul centro Quirino cercano l'uno due due frombolieri dell'attacco guardate Quirino cosa riesce a fare cosa riesce a fare questo giocatore ma davvero qualcosa di eccezionale un doppio passo con lo scambio con Domenico Conidi un doppio passo una finta lascia di stucco beh che i difensori della Bussolavi sono abbastanza pesanti Vitaliano e De Filippo però è stato lestissimo e a fare un 1-2 che ha superato in velocità entrambi e quindi si è portato tu per tu con Bilotta che questa volta nulla ha potuto per il 4-1 dell'Eurogiri Falco e quindi al 23esimo quindi del secondo tempo il 4-1 a favore degli ospiti dell'Eurogiri Falco nei confronti della squadra di casa la squadra che secondo calendario gioca in casa la Bussolavis gli appello ancora per la Bussolavis l'indietro per il numero 16 Vitaliano Antonio ancora lo stesso numero giocatore che cerca di infilarsi in mezzo a 2 subisce il fallo da parte di Domenico Stranieri giocatore del 96 21enne cioè che deve attenzione c'è qualcosa qualche piccola discussione in campo adesso il fallo è assegnato ai giocatori dell'Eurogiri Falco quindi con il conseguenziale calcio di punizione a favore della Bussolavis ancora una volta sul pallone Vitaliano Marinaro anche De Filippo però che si allontana mette la misura Marinaro credo che questa volta sia lui caricato del tiro Vitaliano probabilmente gli concede questo calcio che cercherà di effettuare direttamente in porta anche Marinaro che ha ottenuto il primo gol adesso la palla viene ripetuta dalla barriera esce Giampà e lancia in attacco proprio Domenico con Ivi vediamo la velocità anche qui stiamo parlando di un supersonico di un jet questa volta si perde il pallone tra i piedi perché cercava anche qui di fare una Veronica per entrare in area di rigore non ha servito sulla fascia di sinistra il numero 6 Ferraina che era tutto solo a Burdino adesso va in aria e la palla viene deviata in calcio d'angolo è un po' scomparsa probabilmente dal campo la Busolavis ha subito questo 1-2 di Quirino che lo ha tramortito certamente dipende anche tante volte dalle situazioni ogni partita di calcio ha una storia a sé però oggi come oggi dobbiamo dire effettivamente che l'Eurogiri Falco ha dimostrato di valere tutta la sua posizione in classifica di valere questo secondo posto di essere certamente superiore alla Busolavis in questo caso ultimo cambio anche da parte dell'Eurogiri Falco esce proprio Giampà esce Giampà prende l'applauso ovviamente dei suoi sostenitori vediamo con piacere anche da parte degli avversari sono un po' i giri falcesi in questo caso che danno il giusto omaggio all'uovo allenatore quindi siamo intorno al 27esimo del secondo tempo quindi al posto di Giampà è entrato il numero 16 Signorello e adesso come dicevo poco fa è la linea 3 dell'Eurogiri Falco è formata da EIA a destra Randò centrale Chiarella a sinistra poi a centrocampo ancora Valerio Vonella con il numero 8 affiancato da Ferraina che si è accentrato magari lasciando lo spazio sulla sinistra Signorello nella centrocampo anche il numero 17 nuovo entrato Domenico Stranieri in attacco restano quei due lì che sono davvero una ira di Dio coloro che non certamente si fanno pregare quando c'è da accelerare quando c'è da sviluppare un'azione offensiva si cercano spesso qualche volta tentano anche la soluzione individuale ma hanno davvero una velocità e una capacità impressionante di poter andare ad aggredire l'avversario il pallone adesso l'arbitro non si accorge che era De Filippo a toccare per l'ultimo nulla di male anzi è stato bravo fino adesso il direttore di gara a tenere la partita non c'è stata molta animosità in campo abbiamo visto soltanto qualche ammunizione di contenimento chiamiamola così perché è arrivata la prima proprio a Malanga nel primo tempo che era entrato per tre o quattro volte fuori tempo addirittura sugli avversari e quindi l'arbitro a quel punto ha deciso di dargli una regolata per fargli capire che non si può entrare in quel modo sugli avversari e così poi è stata anche per qualche altro giocatore però diciamo anche l'ammunizione di Vonella di Valerio è stata per un fallo a centrocampo così anche quella per Randò certo che invece dalla parte della della Bussolavis l'ammunito se non vado errato secondo le mie carte dovrebbe essere il solo numero 16 Antonio Vitaliano l'ammunito poco fa e qui a centrocampo probabilmente per una frase di troppo più che per un fallo di gioco perché non è quello che abbiamo visto d'altra parte e allora ci avviamo stancamente alla fine di questa partita siamo sul 4 a 1 a favore dell'Euro Giri Falco Quirino cerca di fare qualche giochetto per mettere in movimento Domenico Conidi Gli appello in avanti ancora per Vitaliano Vitaliano non riesce ad essere servito Domenico Conidi guardate che giochino di gambe fa nei confronti di Filippo che non è certo l'ultimo arrivato probabilmente è anche lento visto ovviamente la sua costituzione visto anche i trascorsi in campo però proprio per un giocatore di esperienza in quel modo fare questi giochini da parte di Conidi o di Quirino significa davvero avere una capacità di movimento davvero impressionante Vitaliano ancora a servire in attacco Marinaro sono due giocatori dell'Euro di Giro che si scontrano ancora Vitaliano tutto solo davanti alla porta non ha segnalato posizione irregolare il direttore di gara se non vado a rato era Giapello che di testa non è riuscito ad impattare bene la palla ha mandato al lato della porta di stranieri io obiettivamente avevo avuto qualche dubbio sulla posizione di Giapello però ripeto noi siamo da questa posizione alta l'arbitro è lì al centro e vede molto meglio di noi qual è la posizione ha detto ha reputato non in fuorigioco i due attaccanti della Bussolavis però Giapello di testa non ha inquadrato lo specchio della porta Marinaro con De Filippo in avanti ancora per Giapello però questa volta non arriva la palla Domenico Conidi cerca lo scambio con Ferraine eccolo che riesce a farlo adesso e Ferraine è tutto da solo adesso non può servire Quirino perché è fuori gioco e adesso esce di nuovo la Bussolavis De Filippo Giapello in un tocchetto da parte del numero 17 Domenico Stranieri chiedo scusa era 17 della della Bussolavis Sinopoli invece Domenico Stranieri il 17 dell'Euro Giri Falco Burdino adesso ha un pochettino limitato le sue incursioni sulla fascia di competenza destra per la precisione dell'attacco dell'Euro Giri Falco non va per il sottile assolutamente Rando e il pallone lo vediamo addirittura da qui che è finito forse molto lontano dal campo sportivo qualcuno certamente oggi avrà un pallone in più con cui giocare ecco Signorello mette al centro e riparte l'Euro Giri Falco lancio per Domenico Conidi a contatto con il numero 7 Tavano che lo ferma colpo di testa in fallo laterale per Domenico Prova Amarita Prova Amarita che come caro di Amarita che come caro di Amarita Compa Amarita e Gia all'indietro per Rando Rando con calma di nuovo per Gia che chiama la palla per stranieri stranieri fermo controlla guarda dal numero 16 Signorello che non riesce a controllare il pallone la palla in fallo laterale Giapello con le mani Marinaro Anche qui dobbiamo dire la verità abbiamo un giocatorino che è molto bravo Attenzione Ammonito il numero 15 Chiarella per aver fermato bloccato proprio il numero 10 della Busolavis Stavo dicendo anche qui ci troviamo di fronte a un giocatore molto esile molto veloce con i piedi con le gambe un po' come i due dinoccolati giocatori dell'Euro Giri Falco Domenico Conidi e Quirino è stato bravo anche Marinaro perché ha tenuto un po' la sua squadra in gioco almeno facendo finire il primo tempo sul 2 a 1 quindi dando la speranza la possibilità di un eventuale possibile recupero poi tutto è stato vanificato dalle diciamo indecisioni della difesa della Busolavis che ha consentito a Quirino di fare una doppietta e di portare a quattro le reti della propria squadra Giapello fermato con un colpo di testa in fallo laterale ancora Giapello qui Marinaro eccolo il giocatore attenzione colpito alle spalle da Signorello Bruno in attacco e gli ha disturbato poi entrano i difensori sempre Giapello ancora in aria vediamo che cosa c'è si fa anticipare resta a terra ci arriva male con il corpo con la posizione nel giocatore della Busolavis era stato fermato proprio molto bene da Eijani numero 3 dell'Euro che adesso nel secondo tempo è passato a destra dopo che nel primo tempo aveva giocato tutto quanto sulla sinistra fallo laterale conquistato da Signorello Comunque ci avviciniamo alla fine di questa partita c'è l'Euro che sta giocando un po' a controllare la partita un po' a tentare qualche ripartenza ancora a Marinaro e solo cerchi di dare la palla a un proprio compagno la dà a Signorello Vitaliano chiedo scusa e poi il tiro da parte del numero 17 Sinopoli la palla alta sopra la traversa difesa della porta difesa da stranieri di Ci distraiamo certamente perché a questo punto la partita lo richiede poco la nostra attenzione per cercare di seguire i movimenti che ci sono sulla panchina. E' rimasta piena fino adesso, nonostante il punteggio che dica molto chiaramente della vittoria dell'Euro a Giri Falco non si è mosso nessuno, sono rimasti tutti quanti ai loro posti, composti, tranquillamente, senza polemica, senza problemi. E' davvero una bella giornata di sport e di calcio qui a Giri Falco per il derby Giri Falcesse. Attenzione Domenico Coniti che cerca il gol personale, sbaglia, sbaglia per troppa forza perché ha voluto davvero cercare troppo l'angolo. Bilotta probabilmente a quel punto non avrebbe potuto farci nulla perché a tu per tu con il portiere bastava di giustezza mettere la palla, invece ha voluto fare tirare un colpo secco Domenico che quindi ha fallito l'opportunità di fare il suo gol. Portare a 5 le reti per la propria compagine, ma quello che più conta in questi casi è il gol personale, il piacere personale di poter mettere il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Ancora da questa parte, adesso è il numero 16 Signorello, il tiro dalla lunga distanza, poi addirittura di Ferraina. Qui adesso ognuno tenta di fare quello che vuole, siamo proprio alla fine della partita. E' come se tutti si fossero passati, tutti si stanno alzando quasi per abbandonare l'impianto di Giri Falco e di portarsi certamente nelle proprie famiglie a festeggiare. E' quello che rimane della domenica ancora appunto con amici, parenti o quant'altro. Anche in campo ormai si è vista la situazione, c'è a terra un giocatore della Euro Giri Falco, l'arbitro il signor Corticelli di Catanzaro. Buono la sua direzione, tranquilla per un derby ovviamente che, ripetiamolo ancora una volta, è stato molto corretto. Le ammunizioni più che altro sono dovute a falli di gioco non violenti, non cattivi, ma che magari hanno voluto soltanto segnare la possibilità che ci potesse essere qualcosa di diverso. E allora per questo l'arbitro ha provveduto con le ammunizioni. Però nulla di grave, adesso si scherza in campo, anche tra giocatori di squadre diverse. Vediamo Ferraina che gioca e parla e chiacchiera con Bruno, un po' tutti quanti, anche in tribuna. Vediamo che si stanno salutando. Si rialza, era il numero 7 Burdino, che era rimasto a terra. Vediamo il direttore di gara se deciderà di dare ancora del recupero per questa partita. Siamo agli sgoccioli ormai. E Proganò ancora che cerca di portarsi in avanti. Vediamo Vitaliano, Vitaliano mette al centro, non riesce a controllarla la palla proprio Proganò. E' l'arbitro fischia. Eccolo qui il fischio finale per questo derby. L'applauso generale. Credo che sia rivolto a entrambe le squadre. Davvero una bella partita tranquilla. Si è vissuta fino alla metà del secondo tempo, quando la doppietta di Quirino ha portato a 4 le reti dell'Euro Giri Falco che già conduceva per 2-1 alla fine del primo tempo. Una partita tranquilla, serena, vogliamo dire davvero una bella giornata di sport. Qui a Giri Falco il risultato finale dice Bustolavis, padrone di casa 1, Euro Giri Falco squadra in trasferta 4. Quindi la Euro Giri Falco continua la marcia di inseguimento al Pianopoli. E' tutto dallo stadio di Giri Falco, da Fausto Varano con l'assistenza tecnica di Peppe Rosano. Un saluto, un arrivederci alle prossime trasmissioni. Targati come sempre, Sovranato 1 TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.